...veramente. È completamente innocuo, proprio come vi ho detto. Un pochino vivace, tutto qua. Non è educato! Hagrid, fa qualcosa! Abbiamo già parlato! Non devi afferrare, vero? Quella è la tua nuova amica, Hermione. Groppi! Gropp! Rimettimi a terra! Subito! Stai bene? Benissimo. Ci vuole mano ferma, tutto qui. Credo che tu abbia un ammiratore. Sta alla larga da lei, hai capito?